La Battipagliese ha ufficializzato il tesseramento del portiere Andrea Rinaldi. Classe 2000, Rinaldi ha militato nella passata stagione al Salernum Baronissi. Sono orgoglioso di far parte di questo prestigioso club, ha affermato l'estremo difensore. Domani alle ore 16 allo stadio Pastena, la Battipagliese disputerà una gara amichevole contro la Calpazio, formazione che milita nel campionato di promozione.